Ciao Marcello, un saluto da Tonino Romano e suo figlio Mattia Lappo che tra un po' parlerà per illustrare alcuni profili di giocatori possibili acquisti per gennaio per la Juve. Come tutti sappiamo il punto debole in questo momento della Juve, voi a causa degli infortuni a centrocampo, anche se Marchisio è rientrato, ma con una Samoa che non sta ancora bene, elimina altrettanto e appunto in una telefonata che abbiamo avuto me l'avevi accennato tu che elimina dei problemi ancora al ginocchio che spero che superi. Comunque qui vi posso illustrare la formazione ideale di Mister Allegri con un 4-3-1-2, abbiamo Buffon in porta, Chiellini e Bonucci centrali, Alessandro a sinistra e Daniel Vecci a destra, Chiedira centrodestra, Marchisio centrosinistra, attenzione il nuovo possibile acquisto per gennaio potrebbe essere, dillo tu come la pronuncia, Carvaio. Carvaio appunto, davanti abbiamo Pjanic, a ridosso di Dybala e Higuain. Però adesso voglio farvi spiegare da Mattia il profilo del giocatore, a te Mattia, dici tutto. Ciao Marcello, vi volevo spiegare le informazioni su Carvaio. Carvaio ha 24 anni, è portoghese, gioca infatti in Portogallo. Dov'è? Nello Sporting Lisbona. Nello Sporting Lisbona. Come alternativa ci potrebbe essere Danilo, che ha 19 anni ed è in inglese, brasiliana ed è il Benfica. E gioca nel Benfica. Tutti e due a quando pare non hanno un costo eccessivo, quindi sono papabili diciamo. Sono possibili per gennaio. Bene, allora noi ti salutiamo. Ciao Marcello. Ciao Marcello, un saluto. E sempre Forza Juve!